Bene, buona prosecuzione di mattinata a tutti. Come forse avrete notato il programma prevedeva una certa sovrapposizione e comunque l'orario è un pochino slittato e quindi confidiamo anche che i tre relatori di questa sessione di allergologia possano essere particolarmente sintetici nella loro esposizione. Io sono qui con le due colleghe che in questo territorio lavorano e quindi con Nika, Curò e Mara Tommasi faremo poi la parte di discussione ma invito subito il dottor Alberto Martelli a presentare la sua relazione su allergie alle proteine del latte vaccino, quale latte speciale per quale fenotipo. Grazie, buongiorno a tutti. Ringrazio il professor Bonner per l'invito. Ringrazio anche l'amico Attilio, pensavo proprio stamattina per tutto quello che mi hai insegnato. Attilio, sarebbe impossibile ricordare tutto e allora in un unico pensiero ti ringrazio per tutto quello che mi hai lasciato dentro. Grazie davvero. Allora, argomento sempre abbastanza controverso ma che soprattutto verrà letto un po' all'ente di ingrandimento di queste nuove linee guida che stiamo proprio facendo in questi giorni, direi adesso lo vedrete, e che riguarda un pochettino la possibilità di dare delle indicazioni precise nel momento in cui abbiamo già il bambino con allergie alle proteine del latte vaccino, quindi di aspetti diagnostici non parleremo. parleremo solo della scelta del latte in base al tipo di fenotipo allergico, perché sapete che il fenotipo allergico ovviamente differenzia molto questi bambini. Abbiamo innanzitutto un fenotipo IgE mediato e quello non IgE mediato. Solo in un 10% dei casi, ricordatevelo, possono essere anche comunque rappresentati contemporaneamente. Ma nell'ambito di questi due sottocapitoli, anche nell'IgE mediato, immaginate solo qual è il ventaglio delle possibilità dall'anafilassi, per esempio, ai disturbi gastrointestinali IgE mediati, oppure nella parte non IgE mediata dall'AFPES, che è una forma comunque importante che preoccupa molto i genitori, fino ad altre forme che sicuramente hanno un impatto minore. Quindi diciamo che la storia di Dracma inizia parecchi anni fa, il primo documento è datato 2010. I primi erano però gli australiani, vedete che nel 2008 avevano formulato su un gruppo di 11 esperti una serie di scelte come prima, seconda e terza scelta. Non era però un documento grade. E allora, due anni dopo, ci siamo chiesti, ma bisognerebbe rivalutare la letteratura attraverso la possibilità di poter fruire di strumenti particolari nell'analisi della letteratura. Lo strumento è stato il grade, scusatemi per la tosse, ma ho un po' di asma in questo periodo. E quindi abbiamo utilizzato con la McMaster University, che voi sapete è un'università canadese dove il grade è stato creato. Questo documento, che è un documento ormai abbastanza adattato, alla fine del quale vedete in rosso vi ho messo un po' la sintesi da un punto di vista terapeutico, che gli estensivamente idrolizzati rappresentavano la prima scelta in molti casi, la miscela di aminoacidi ovviamente nei casi gravi. C'era il problema del latte di riso, sottolineo latte di riso, non bevande di riso. Ieri il professor Resti ci parlava delle bevande di riso, ricordiamoci che i latti di riso sono sempre bilanciati, formulati, quindi sono dei preparati ovviamente ben diversi rispetto a quelli che in commercio si possono trovare non controllati. Però erano poco rappresentati in molti paesi e quindi dovendo fare delle linee guida mondiali era effettivamente difficile poter dare delle indicazioni precise che potessero valere per molti paesi differenti. La formula di soia non è quasi mai una prima scelta nonostante i bassi costi e comunque bisognava sempre pensare a evidenze e preferenze quando si doveva dare appunto la scelta per un tipo di latte. Qui non si vede nulla però è solo per farvi vedere che il nostro lavoro è stato il più citato in assoluto fra le linee guida allergologiche della letteratura. Abbiamo più di 500 citazioni quindi questo sicuramente vuol dire che è stato letto ed è stato comunque utilizzato. Queste sono invece le linee guida che sono uscite nel tempo dopo il nostro lavoro del 2010, vedete quelle francesi, inglesi, quelle dell'Espgan, poi dopo ci sono anche quelle di Van den Plast, Van den Plast sul Middle East Consensus, poi quelle latinoamericane e poi quelle spagnole. Vedete comunque la differenza quali si erano occupate solo delle formigie immediate, quali invece di entrambe, ci sono ovviamente tutte le varie differenze. Adesso finalmente arrivano le nuove dracma, sono già usciti due lavori, quindi se voi mettete dracma 2022 ci sono già due lavori su PubMed. Ho scelto però di mettere al posto dello zero il coronavirus perché effettivamente sono state molto gravate queste linee guida dalla presenza del coronavirus, vedete quanti siamo, qui siamo solo una parte del panel e pensate che difficoltà c'è stata a trovarsi con americani, asiatici e così via in relazione proprio alla difficoltà dei viaggi, a tutto quello che è successo diciamo in questo biennio di pandemia. E quindi bisognava fare fondamentalmente delle grandi riunioni di Zoom con orari anche particolari diciamo perché ci incontravamo verso l'ora di pranzo per poter dar modo agli americani di collegarsi in prima mattinata e gli australiani di collegarsi prima di andare a letto. Quindi insomma parecchi problemi organizzativi effettivamente ci sono stati. E in questi 12 anni abbiamo rispetto alle linee guida 2010 contemplato tutta una serie di aspetti nuovi che vedete sono rappresentati, soprattutto le allergie non igie immediate e sono ovviamente un capitolo molto importante, le allergie agie immediate. Questo è una diapositiva che faccio vedere abbastanza spesso perché quando ho letto il lavoro non credevo davvero ai miei occhi. Questo è un lavoro dove viene comparata la qualità di vita nei bambini e nelle famiglie con falcemia rispetto ai bambini e alle famiglie che hanno una forma di allergia alimentare non igie mediata. E vedete che stanno molto peggio come qualità di vita sia per quello che riguarda la situazione genitoriale sia per quello che riguarda il total score, quelli che hanno un'allergia non igie mediata. Per cui pensate che ricaduta comunque sulle famiglie può avere anche questa componente da un punto di vista allergologico. Ovviamente poi i criteri di scelta per la terapia non solo solo il fenotipo allergico perché dobbiamo pensare a tutta una serie di altri aspetti, adesso il tempo ovviamente tiranno, ne faremo veramente solo un rapidissimo cenno, ma ecco quello che è il lavoro della nuova dracma. Vedete è in preparation quindi 2022, non è ancora pubblicato questo, ma vedete che c'è la comparazione i primi quattro capitoletti sono per le forme igie mediate, i secondi quattro non igie mediate e poi la valutazione dei probiotici nelle forme igie mediate non igie mediate. Vedete che sono state fatte proprio delle comparazioni a coppia, l'estensivamente idrolizzato testato con gli altri tre latti, miscela aminoacidi, riso e soia e poi riso verso soia. Questo sia per le forme igie mediate che le forme non igie mediate. Voi sapete che il grade si basa, non possiamo adesso parlare del grade, comunque sulla formula PICO e questa è la comparison, cioè la C di PICO. P è population, I è intervention, cioè il tipo di intervento che viene fatto, c'è la comparison e questa è la parte diciamo essenziale. Questo si vede abbastanza poco perché sono piccole le scritte, però vedete tutti i parametri che sono stati valutati dagli effetti comunque auspicabili a tutte le altre cose che poi magari vedremo più in dettaglio per le formule rispetto alla situazione dell'allergia igie mediata e il nostro giudizio in merito ai vari, cioè queste erano le varie caselline che potevano essere rappresentate in merito a questi tipi di parametri. Venendo alla sintesi, ho dovuto un po' sintetizzare, questo è proprio l'ultimo documento, quindi non parliamo più comparativamente del 2010 ma del 2022, abbiamo anche capito che la nuova letteratura non sempre consentiva di assegnare per ogni fenotipo un tipo di latte perché in alcune situazioni l'evidenza della letteratura era piuttosto debole e allora abbiamo complessivamente valutato con un numero di stellette, l'estensivamente idrolizzato che ha quattro stellette e così via gli altri e vedete che nei vari parametri, chiaramente nelle risorse richieste, la miscela di aminoacidi anche per i costi ha comunque delle risorse molto ampie, vedete poi andrebbero commentate un pochettino tutti, adesso dobbiamo fare un pochettino in fretta, per la equity per esempio c'è il fatto che soprattutto negli Stati Uniti alcune formule sono coperte anche dall'assicurazione nelle forme severe, ovviamente abbiamo dovuto contemplare tutti questi aspetti, vedete che per quanto concerne l'accettabilità da parte dei genitori, perché poi nell'ambito dell'allergia alle proteine di latte vaccino lo stakeholder è fondamentalmente il genitore, vedete che alcuni genitori preferiscono comunque altre formule perché c'è tutta la parte anche dei vegani che per esempio non vuole che ci siano proteine animali, per quello che riguarda la miscela di aminoacidi alcuni pazienti o genitori comunque potrebbero lamentarsi delle feci verdastre e comunque dell'odore cattivo e così via. Alla fine però vedete che abbiamo fatto delle raccomandazioni a coppia di fatto e vedete che l'estensivamente idrolizzato rimane comunque migliore rispetto alla miscela di aminoacidi, laddove è presente sul mercato il riso sono praticamente comparabili e l'estensivamente idrolizzato è comunque superiore alla soia. Qui vedete di converso che la miscela di aminoacidi è inferiore all'estensivamente idrolizzato e poi nelle ultime due tabelle l'estensivamente idrolizzato come già detto, analogo al riso, migliore della soia e vicendevolmente per quello che riguarda la soia. Per quanto concerne invece le forme non IgE mediate, la parte precedente relativa alle forme IgE mediate cambia davvero poco, quindi siamo più o meno in linea con quello che vi ho detto prima. Questo invece è il primo lavoro dei due che è già pubblicato, quindi lo trovate e vedete che c'è un pochettino una sorta di indice, in poche parole, per quello che riguarda la situazione odierna. Nell'indice le formule sostitutive avranno una review sistematica e poi i trattamenti sostitutivi rispetto alle raccomandazioni avranno delle linee guida e poi ci saranno anche una sintesi di raccomandazioni. Un altro lavoro che è già uscito sempre per chi fosse interessato, vedete quanti nomi ci sono effettivamente in questo lavoro, siamo credo 38, una cosa veramente enorme come gruppo, questo è relativo all'immunoterapia nelle allergie alle proteine di latte vaccino, non è argomento di oggi, quindi non ne parliamo, era solo per segnalarlo, perché questo è uscito da circa 4-5 giorni. Per quello che riguarda la sicurezza di un latte, vedete bisogna pensare che questo nuovo latte possa dare reazione allergica, vi do un pochettino le chiavi per poter un po' capire il nostro lavoro e possa esserci anche un prodotto che sia sicuro sotto vari aspetti. Però il grade si differenzia perché tutto parte dalle indicazioni cliniche e questo è il vantaggio, cioè poiché chi fa il grade sono fondamentalmente dei biostatistici, dei matematici, diciamo così, noi non siamo entrati nella valutazione grade, attenzione perché la valutazione grade è lasciata agli specialisti, cioè la fanno solo in Canada, la fanno solo loro, sono anche abbastanza gelosi e di conseguenza noi non possiamo entrare anche per una questione che può essere per alcune persone di conflitto di interesse o altro, la valutazione grade è demandata solo a loro. Però loro all'inizio ci chiedono, ma sentite un pochino, per voi questi sono gli aspetti che noi avevamo un pochettino suggerito da approfondire, qual è il voto che dareste da 0 a 9 per il fatto che un nuovo latte possa dare ancora sintomi severi? Vedete tutti si sono espressi o quasi tutti col punteggio maggiore perché è una caratteristica ovviamente, per esempio il fatto che possa dare, qui vedete questo è Massimo Landi che è presente forse in sala, poi c'è Hugh Sampson che è da qualche parte, questo è lui, poi c'è Sandro Fiocchi che è questo, questo sono io e così via. Insomma però vedete che per esempio laddove c'è una situazione di deficienza di un nuovo alimento, col fatto che si possa in qualche modo compensare con una supplementazione, inevitabilmente i voti sono più bassi. Quindi insomma c'è tutta una valutazione in base al tipo di problematiche. Per l'anafilassi però vedete in prima battuta, questo è il documento vecchio, credo che sarà comunque confermato anche perché è un documento mondiale e quindi deve comunque mantenere la sicurezza dovuta a un documento di questo genere, la prima scelta è la miscela di aminoacidi. Vedete, questo è per dirvi che non è che dovete dare sempre la miscela di aminoacidi, in casi particolari si può dare anche l'estensivamente idrolizzato. Prima fate sempre un prick però con quell'alimento e vedete che il prick, se lo leggete a 10 o 15 minuti, questo è un lavoro recentissimo, cambia veramente poco anche se in alcuni casi qualcosetta può esserci. Comunque vale la pena aspettare 5 minuti in più per la lettura. Per la food protein il fenotipo invece suggerirebbe un estensivamente idrolizzato in prima battuta però ci sono dei casi effettivamente abbastanza gravi, cioè ricordiamoci che la clinica deve anche suggerire determinate scelte per cui in un caso effettivamente questo è per far vedere quanto è rappresentato il latte come responsabile dell'AFPS, vedete questa è una bella revisione recentissima eseguita in Francia, vedete anche i tempi di sopravvivenza, lo sappiamo le forme non igie mediate mediamente vanno incontro a una tolleranza in tempi molto più brevi, però vedete questo per esempio è un balbino che ha soltanto, un lattante che ha soltanto tre mesi, ha una metaboglobinemia, vedete il pallore cutaneo, le labbra tipicamente cianotiche, in un caso come questo sicuramente guardate la distensione addominale eccetera, non mi fiderei tanto a usare un estensivamente idrolizzato, in un caso grave si cerca di risolvere rapidamente la situazione di gravità e poi ci si può pensare sopra e fare eventualmente successivamente delle altre scelte. per la sicurezza vedete questo era un dato, ve lo dico che era venuto fuori per i latti di riso perché si era notato che effettivamente il riso poteva contenere delle elevate quantità di arsenico, questa è la quantità totale urinaria valutata in alcuni bambini che facevano sia una dieta con alimenti che avevano dei preparati, che avevano sia riso sia altre cose oppure solo alimenti con riso e vedete che effettivamente gli ultimi istogrammi potevano lasciar pensare a qualche situazione diversa. poi andando a vedere nei latti siamo veramente tranquilli perché comunque l'EFSA che è l'autorità europea più importante ha stabilito comunque i valori massimi fino a 8 microgrammi per chilo di peso, un lattante tanto per intenderci 5 chili può assumere 8 per 5,40, 40 microgrammi di arsenico e vedete che comunque nei latti di riso ce ne sono per chilo di latte, ce ne sono come microgrammi rappresentati sempre molto molto meno, quindi era una cosa che è rientrata e che è stata valutata anche questo. Poi vi ricordate tutto il discorso dei fitoestrogeni, vado un pochettino svelto, questo è uno degli studi più importanti dove c'erano bambini allattati con latte di soia, con latte vaccino formulato e con latte materno, la cosa interessante è che la neonata ha un utero più grande rispetto alla bimba più grande e l'utero comincia a diminuire, vedete questi sono i giorni, diciamo qua siamo più o meno a tre mesi, 90 giorni, tre mesi, poi così via e vedete che chi era alimentato con latte di soia proprio per la presenza dei fitoestrogeni che andavano a competere con gli estrogeni e a esprimere in base alla quantità che era ovviamente presente, aveva una riduzione del volume uterino molto più graduale per l'effetto degli estrogeni rispetto a quanto non avvenisse per le altre due curve per i latte di formula e per il latte materno. Questo per dire che è un problema comunque questo presente e che ha forse un po' limitato l'utilizzo di questi latti negli ultimi anni. Poi vedete questo è un altro bel lavoro dove si chiede ma perché hai usato un latte di soia? e effettivamente il medico, un operatore sanitario che lo raccomanda è in una piccola percentuale dei casi, il totale è più di 100 perché ovviamente uno potrebbe avere anche due o tre fattori concomitanti, vedete però che una delle cause principali è la soia è più sana delle altre formule o ha lattato altro figlio con soia e così via. La stipsi un'altra cosa che dovete ricordare è che non compare mai da sola cioè nell'allergia alle proteine del latte vaccino ricordate che da sola non la vedrete praticamente mai. Se c'è stipsi e qualche altro segno è una cosa in maniera molto remota da pensare ma aveva colpito questo lavoro anche questo recentissimo di Nutrients dove non sono tutti i bambini questi con allergie alle proteine del latte vaccino anzi è un gruppo che ha una stipsi cronica ma vedete che effettivamente anche in questo ambito un 14% rispondono però all'eliminazione di latte e derivati. Questo è per far vedere che devono essere assolutamente aboliti e lo ribadiremo ancora con forza nel documento i parzialmente idrolizzati perché vedete che tipo di reazioni possono dare alcune anche con alafilassi con coinvolgimento contemporaneo di due apparati. L'aspetto nutrizionale è già ampiamente studiato lo vedete questo a 120 giorni per quello che riguarda questa formula estensivamente idrolizzata. Un altro aspetto secondo me importante è che anche in prospettiva almeno fino a 3-5 anni non cambia molto questa è una valutazione comparativa fra estensivamente idrolizzati, estensivamente idrolizzati con l'atto bacillo GG e parzialmente idrolizzati con l'atto bacillo GG. Un'altra cosa secondo me importante è che noi ci preoccupiamo sempre in questi bambini della crescita di peso soprattutto del peso ma anche della lunghezza ma non ci poniamo mai il problema se questi bambini alimentati con un latte particolare hanno effettivamente uno sviluppo neuromotorio adeguato per età. In questo lavoro è stato ampiamente dimostrato che sia a 3 anni che a 5 anni le pietre miliari dello sviluppo neuromotorio per quello che riguarda l'aspetto motore, il linguaggio e l'aspetto relazionale sono comunque perfettamente rispettati quindi questo è un messaggio di grande sicurezza che viene dato. Una cosa che è emersa è che però il bambino effettivamente tende quando ha allergia alimentare in particolare allergia e proteine al latte tende a avere un comportamento evitante quando diventa grande. Questo è un dato importante che secondo me si riverbera soprattutto sulle diagnosi cioè cercate veramente di non regalare mai la diagnosi di allergia al latte vaccino a qualche bambino perché generate tutta una serie di problemi a cascata che ne possono derivare. Quindi già almeno lasciamo questo tipo di situazione a chi è veramente allergico e non creiamo dei problemi ulteriori laddove non esistano. Questo è un'altra cosa importante, dovete sempre ricordare di integrare con calcio e con vitamina D i bambini con allergie alle proteine al latte vaccino. In realtà il calcio andrebbe integrato nel momento in cui il latte speciale viene utilizzato molto meno con l'introduzione delle pappe perché i latti speciali sono comunque additivati di calcio quindi se il bimbo prende solo un latte speciale andiamo bene però vedete questo è un altro lavoro anche questo recentissimo vedete la percentuale gli istogrammi arancioni sono i controlli cioè i bambini che non hanno allergie alle proteine al latte vaccino e invece gli istogrammi violetti sono quelli con la cow's milk protein allergy quindi l'allergia alle proteine al latte vaccino e vedete che differenze ci sono per quello che riguarda la carenza in percentuale fino al 100% di 25 drossi vitamina D. Vedete questa è una deficienza importante questa è l'insufficienza e poi invece la situazione normale e vedete che rispetto agli altri parametri che vengono contemplati dalla fosfatasi alcalina ossea che sapete che ci sono gli isoenzimi qui è valutata solo bone cioè quella ossea il calcio il fosfato il paratormone e la calcitonina vedete che in realtà il p-value è fondamentalmente sempre comparando rispettivamente i controlli con chi ha l'allergia molto evidente per quello che riguarda la carenza come fatto vedere prima di vitamina D in questi bambini l'impatto sulla futura tolleranza ci sono tantissimi lavori ve ne ho preso uno recentissimo dove si vede che a parità gli allergici sono gli azzurri i non allergici alle proteine al latte vaccino sono gli altri tutti i sintomi tendono a essere ma come è molto più tardivamente in remissione nella fascia azzurra questo è per far vedere che si era anche provato a vedere la probabilità di sviluppare tolleranza a seconda del tipo di latte però è un lavoro non randomizzato attenzione quando si leggono lavori non randomizzati c'è sempre qualche pensiero che viene per esempio vedete la prima cosa che viene in mente nelle forme non igie immediate vedete che non è particolarmente alta la probabilità di far acquisire tolleranza dando la miscela di aminoacidi questo potrebbe determinare essere determinato al fatto che non essendo randomizzato magari è stata data la miscela di aminoacidi ai casi più gravi che quindi come tali hanno già di base la probabilità di poter perdurare un pochettino più a lungo quindi attenzione quando si leggono i lavori il greda ovviamente sfrondato tutte queste situazioni questo è un lavoro che ha fatto vedere Diego ieri se ricordo bene per far vedere che i tempi di tolleranza non sono modificati dai simbiotici nel momento in cui i simbiotici vengono aggiunti a una miscela di aminoacidi questo per far vedere che a seconda anche del tempo variano le situazioni vedete la domanda del grade era ma il lato bacillo gg aumenta l'efficacia dei latti speciali per la tolleranza cioè se do un latte speciale senza gg o con gg modifico qualcosa vedete che effettivamente abbiamo un rischio relativo di 2,47 a un anno ma le cose cambiano molto a due anni e poi si mantengono più o meno stabili ai tre anni quindi alcuni effetti potrebbero essere anche tempo dipendenti e non sempre costanti comunque da rilevare andiamo avanti la palatabilità sono pochissimi i lavori che hanno valutato la palatabilità uno di questi è di Michele miraglia del giudice vedete lo sappiamo che le miscele di aminoacidi sono le peggiori qui non c'è dubbio ma vedete che in realtà anche almeno in relazione a questo tipo di estensivamente idrolizzato di caseina vedete che quasi va a sovrapporsi non tutti gli estensivamente idrolizzati di caseina ovviamente hanno questo comportamento però mediamente gli estensivamente idrolizzati di seroproteine vanno comunque a porsi in una situazione di palatabilità migliore anche questo questo poi è per dire che ci sono tutta una serie di scelte anche sulla palatabilità che riguarda anche per esempio questo è un lavoro di quattro anni fa dove proponevano uno yogurt con miscela di aminoacidi supportato in calcio e così via i costi e siamo arrivati più o meno alla fine di questa chiacchierata questo è un lavoro 2018 sempre il gruppo dracma dove eravamo andati a valutare l'impatto delle linee guida dracma sui costi in realtà questi sono dati italiani perché poi negli altri paesi ce ne erano tantissimi vedete quello che si era ottenuto forse anche non in relazione solo alle linee guida dracma era una riduzione comunque nei costi della miscela di aminoacidi questa è l'ultima diapositiva sono andato abbastanza veloce poi per carità se ci sono domande ma ho voluto un pochettino recuperare tempo vediamo di raccogliere un pochettino le idee la prima scelta sarà ancora quella degli estensivamente idrolizzati per i costi per la palatabilità per la sicurezza per tutta una serie di fattori lo sappiamo che il bambino soprattutto il lattante con disturbi gastrointestinali la formula di soia non è mai indicata la miscela di aminoacidi dovrà essere contemplata all'interno di una valutazione più ampia che dovrà riguardare sia la gravità della manifestazione ma anche necessariamente il costo del preparato dei parzialmente idrolizzati abbiamo già detto che non vanno prescritti mai così uno si toglie immediatamente il dubbio in un bambino con anafilassi certo è difficile raccomandare un tipo di latte che sia diverso dalla miscela di aminoacidi perché comunque il rischio è comunque elevato se date però un estensivamente idrolizzato cioè nel momento in cui magari c'è un bambino con anafilassi volete provare a dare un estensivamente idrolizzato credo possa essere assolutamente lecito dovete fare uno skin prick test prima della somministrazione e se è positivo lo skin prick test io non mi darei comunque la miscela di aminoacidi se è negativo lo skin prick test visto che avete lì il bambino dateglielo perché per esperienza la mamma che vede direttamente in ambiente protetto che il bimbo che ha avuto magari una reazione estremamente grave che tollera perfettamente quel tipo di latte è già una mamma più serena che probabilmente andrà con maggiore serenità a casa a proporre quel tipo di preparato il latte di riso effettivamente adesso che è più diffuso un po' sui mercati internazionali garantisce sicuramente bassa allergenicità buoni parametri nutrizionali quindi deve essere comunque riconsiderato ripeto latte di riso e non bevande di riso grazie per l'attenzione ringrazio per questa bellissima reazione e apro la discussione e vorrei fare alcune osservazioni come pediatra di famiglia allora intanto complimenti per il lavoro che avete fatto di valutazione proprio di tutti i confronti perché con questo rigore è stato veramente un lavoro bellissimo ecco adesso noi dobbiamo poi vedere in realtà nella pratica quotidiana la gravità della clinica poi alla fine perché la differenza tra le forme igie immediate e non igie immediate a volte può essere anche critica proprio l'aspetto clinico io penso ad esempio al mio paziente che ha una forma non igie mediata assolutamente no la miscela di aminoacidi anche perché la mamma immediatamente si rasserena il bimbo comincia a crescere meglio sta meglio si mettono le bocce ferme e poi dopo successivamente si possono fare anche altre valutazioni assolutamente sì è fondamentale in questo caso la collaborazione tra i dati e la famiglia e il secondo e terzo livello ecco per cui credo che sia un punto critico anche per noi nonostante magari nella reazione da non igie immediate possa essere conciliato un tipo però passare all'altro in caso valutazione esatto le forme gravi vanno sempre all'inizio trattate con la miscela di aminoacidi poi se per vari motivi di costo di situazioni regionali di cose particolari uno vuole provare con l'estensivamente idrolizzato non è negata come situazione però bisogna fare qualche passaggio preliminare assolutamente sì difatti era citato proprio come motivo per cui alcune famiglie vegani non è che sono così pochi stanno anche incrementandosi e quindi loro prediligono ovviamente alcuni tipi di preparati per scelte ovviamente loro e quindi in quel caso sicuramente può essere una opzione assolutamente domande della sala grazie 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 di base di libera scelta ci capitano sempre delle cose che vanno anche al di là di quello che noi pensiamo di poter gestire quando siamo in ambulatorio io appunto all'inizio della mia professione mi è capitato proprio un bruttissimo shock anafilattico un bambino che ha assunto la mamma non aveva più latte ha assunto un latte adattato ha avuto un gravissimo shock anafilattico portato proprio in rianimazione col 118 quindi da lì poi veramente cominciamo a pensare quali sono come diceva la dottoressa tommasi tutte quelle cose che noi possiamo fare in ambulatorio per cercare di capire anche i sintomi che non sono così diciamo importanti e così drastici quindi parlo per esempio di un bambino che ha un ritardo di accrescimento o delle neonato una gastroenterite in quel caso lì possiamo pensare di dare un latte parzialmente idrolizzato e in quel caso magari fare qualche prova come uno skin prick test o non è proprio il caso di farlo? Allora la diagnosi di allergia alle proteine del latte vaccino non può essere un po' sì o un po' no o è o non è e allora il percorso diagnostico che oggi non era però nell'argomento deve essere sempre molto rigorosamente e correttamente effettuato se è viene allora a essere etichettato in uno dei vari fenotipi dove ci sono le varie caratteristiche cosa possiamo fare invece nelle situazioni forse mi sembrare capito anche questo aspetto la domanda come pediatri famiglia nelle situazioni della filassi ribadire la necessità perché alcune volte il genitore quando soprattutto non è particolarmente grave la reazione tende quando ormai ha una certa esperienza diciamo a gestirle a casa e allora la raccomandazione è di andare sempre sempre ogni volta in ospedale e qui potete aiutarci parecchio perché l'andare sempre in ospedale significa avere un paio di informazioni imprescindibili la prima è quella che intanto garantiamo al bambino la sicurezza dell'osservazione nelle ore a venire perché nessuno può dire in partenza come evolverà quel caso e quindi lo mettiamo già in partenza in sicurezza ma poi anche noi quando lo vediamo in ambulatorio successivamente abbiamo bisogno al di là della precisione della mamma nel descrivere quello che è accaduto di tutta una serie di parametri che abbiamo di riflesso se il bambino transita dal pronto soccorso la saturazione la pressione arteriosa com'era l'ascoltazione del torace ci può anche aiutare in molti casi per una prescrizione di adrenalina sì o adrenalina no quindi in un bambino come quello che hai riferito sicuramente come altri perché ce ne sono ovviamente tanti e non solo per l'allergia al prodotto del latte vaccino ma se parliamo di anafilassi d'alimento vale un po' per tutto la raccomandazione sempre di portare il bambino quando c'è una reazione conseguente ovviamente all'assunzione di quell'alimento in traccia oppure in altre condizioni di portare comunque sempre se c'è clinica il bambino per essere valutato a livello di pronto soccorso per i motivi che vi ho detto grazie molto per tutte le delucidazioni grazie a tutti